Quello che temeramo si sta avverando. La guerra sta diventando lunga e sanguinosa. Le operazioni sul campo sono molto ridotte perché dopo le sconfitte subite intorno a Kiev, intorno a Cerniv, intorno a Sumy, i russi si sono ritirati e stanno cercando di riorganizzare quello che resta della prima ondata. L'offensiva prosegue dal punto di vista russo soltanto in questa zona, la città chiave è Izium e attualmente i combattimenti sono concentrati intorno a questa località, ossia al tentativo di chiudere in una sacca le forze ucraine che bloccano l'espansione del Donbass, delle due repubbliche, Lugansk e Donetsk, da cui è nato questo conflitto. Allo stesso tempo però gli ucraini stanno contraattaccando a Mikoyev, usano le forze che finora sono state ferme da adesso, temendo uno sbarco russo, per andare all'assalto qui e le posizioni russe a Kerzon sono in grande difficoltà, tant'è che si ipotizza che possano ritirarsi al di là del fiume di Nieper e sancire così il confine. È una guerra lenta che diventa ogni giorno più feroce perché le nuove armi concesse dall'Occidente, donate dall'Occidente agli ucraini, ne aumentano la capacità di resistenza e di impedire gli attacchi russi, ma allo stesso tempo non sono in grado di favorire dei contraattacchi. Quindi c'è un grandissimo stallo in cui il protagonista sta diventando l'aviazione russa, che contrariamente all'inizio va sempre più in azione e colpisce sempre più liberamente in tutta quest'area del fronte, bombardando molto spesso obiettivi civili e anche ultimamente fabbriche chimiche con il rischio di pericolose contaminazioni.